Cerchiamo di spiegare un po', l'ordine, aprire un foglio di calcolo, creare due colonne, una contenente il nome di un'azienda, l'altra contenente il voto relativo. Ordinare la seconda colonna, la colonna verrà ordinata senza tenere conto della prima colonna. Ora proviamo a selezionare entrambe le colonne e a ordinarle secondo in base al voto. Vedremo che i dati risulteranno correttamente ordinati. Grazie. Grazie.